Debolezze, manie, passioni e desideri dei sindaci savonesi attraverso la loro stessa voce. E' l'iniziativa inusuale e intrigante di una famosa stazione radiofonica del Ponente Ligure, che ha scelto le vacanze natalizie per regalare agli ascoltatori le versioni più umane e meno istituzionali dei primi cittadini savonesi. Un'ottima riviera! Abbiamo cominciato così la nostra trasmissione oggi. Cosa è successo in questa oretta di diretta con i telespettatori? Di cosa si è parlato? Mi ha fatto piacere perché un'ascoltatrice ha detto che ho una voce molto sensuale e mi fa piacere che in radio... No, però si è parlato un po' di tutto, più che altro di gusti musicali e si è usciti un po' da quello che è lo standard del sindaco, del suo ruolo istituzionale, perché il sindaco prima di fare il sindaco è anche un uomo, una persona che vive la sua vita, con i suoi problemi, con la sua famiglia, con le sue cose, con i suoi gusti musicali e quindi che hanno sottolineato la sua vita nel suo percorso esistenziale. È stata un'idea azzeccatissima e devo dire che effettivamente poi le cose più interessanti vengono fuori proprio, non in diretta ma fuori, ecco, fuori dalla diretta, su questo gioco di parole, per cui noi veniamo a conoscere un pochettino meglio, a scoprire delle cose proprio quando il microfono è spento e che magari si lasciano un pochettino più andare, però noi poi li ribecchiamo subito perché poi ha il microfono acceso e andiamo a richiedergli le cose che hanno detto fuori diretta. Forse questo è bello del gioco. È stato molto bello, spero che verrà ripetuto. Grazie a tutti.